Ecco qua, la vita è la quarta vita, c'è di più che siamo sempre lì, siamo in talcomanità, gli infetti ma insieme siamo tutti per me, carcacoli, ginastia, ballerina, le tifo vente, le maestre facciamo partire, ma ci vogliono bene da morire, siamo i loro ragazzini o i loro bambini. Siamo giovani, ci piace cantare, vedremo i baci, vogliamo le fai. Siamo giovani, ci piace cantare, vedremo i baci, vogliamo le fai. Ciao, siamo alla quarta B della scuola primaria Marco Polo, di Bollate. In questo podcast parleremo di scienza, ma anche della nostra bellissima città, Bollate, grazie alla collaborazione di persone che hanno trasmesso amore per la propria città e per la fotografia, rendendoci orgogliosi di appartenere a questa comunità. Ho sentito per caso parlare di camera oscura? Sìììì! Ringraziamo il gruppo MEV, ma ora... Ne parleremo di più! Con il gruppo Stitch composto da Mimi, Leone, Bob, Amy e Tia Volete creare con noi la camera oscura? Dovete sapere che la camera oscura è l'antenata della macchina fotografica Wow! E funziona proprio con il nostro occhio Wow! Ora correte a prendere tutto l'occorrente Aspettate, dobbiamo prima dirlo Ah, giusto! Questo è l'occorrente Una scatola chiusa delle scarpe Dei fogli colorati e bianchi Una lampada, la carta da forno, il scotch e la colla Vi aspettiamo! Prima di tutto rivestite la scatola con fogli colorati E fate un foro dalla parte corta Dalla parte opposta ritagliate tutto il rettangolo E applicate la carta da forno Sarà il nostro schermo Ora accendiamo la lampada Scegliete un disegno Coloratelo completamente di nero E attaccatelo alla lampada Ora andate a spegnere le luci O vi mettete sotto un tavolo O in un riposteglio Ma basta che sia buio! Cosa succede? L'immagine è capovolta Vi ricordate che funziona proprio come l'occhio? 3, 2, 1 Breve ripasso Nell'occhio il foro cos'è? Esatto! La papilla Nell'occhio la carta da forno cos'è? Ottimo! La retina Ma Leone, nel nostro occhio Chi è che raddrizza le immagini? Il cervello, tia Ragazzi, ma chi trasporta le immagini al cervello? Diciamolo insieme Il nervo ottico! Speriamo vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo esperimento Con tanto divertimento E ora la parola al prossimo gruppo Ciao! Ciao! Ecco qua La vita quarta Di se c'è di noi Ma siamo sempre qui Siamo in tanto qualità Di infatti ma insieme Siamo tutti per me Cantarciato Ginnaste, ballerine, arte Di proprio bene Le maestre facciamo partire Ma ci vogliono bene da morire Siamo i loro ragazzini Non più i loro bambini Siamo giovani Ci piace cantare Per raccontarci Vogliamo del pari Siamo giovani Ci piace cantare Per raccontarci Vogliamo del pari Wuuuuh